Buona primavera a tutti perché adesso sì che è una bella primavera in quanto dopo anni torniamo a parlare del caso Pamela Prati e Mark Caltagirone perché ci sono delle novità molto importanti quindi sigla e a tra poco. Perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Diva Podcast. In cui sapete che andiamo ad analizzare casi di attualità e soprattutto anche i risvolti psicologici di questi casi. Abbiamo parlato anni fa appunto di Mark Caltagirone, di Pamela Prati, di tutta questa storia qua che per mesi ha appassionato tutti gli italiani, anche quelli che non guardano la televisione come me, sono rimasti appassionati da questo caso. Questo caso ha portato a delle denunce e un processo che si è concluso con il verdetto del giudice in questi giorni e quindi si è scoperta finalmente la verità che era poi la più ovvia. Anche se tutti noi abbiamo fatto delle le azioni all'epoca e anch'io avevo sbagliato rispetto a quello che è stato deciso dal giudice. Anche io diciamo non avevo capito quello che era successo, adesso non ho riguardato prima di fare questo podcast i miei video vecchi dell'epoca, ma io ero fermamente convinta che Pamela Prati fosse stata realmente vittima di una truffa amorosa. Ma che cosa era successo? Eravamo nel 2019 se non erro perché quell'anno lì era anche l'anno in cui io facevo i salottini televisivi e mi ricordo che una volta ero da Barbara D'Urso e avevo dovuto aspettare un sacco di tempo dietro le quinte perché c'era Eliana Michelazzo, il lacrime disperata che parlava di questa vicenda prima di me, no, prima che dovesse entrare io per il mio blocco appunto della trasmissione. Mi ricordo che ci siamo fatti due coglioni tanti dietro le quinte, io e gli altri del talk che ci sarebbe dovuto essere dopo. Ci siamo fatti due palle estreme, due palle incredibili perché questa coda non finiva più, quel che continuava a piangere, a disperarsi, Barbara che non concludeva più la parte precedente insomma, quindi io ho questo ricordo dietro le quinte. Appunto nel 2019 Pamela Prati, che come tutti sappiamo è una famosissima, iconica, showgirl degli anni 90, degli anni 80, degli anni 90, io me la ricordo quando ero piccola, che era identica o uguale ad adesso, cioè proprio non è cambiata, non è invecchiata niente. E insomma faceva la subrette nei programmi trash dell'epoca, mi pare tipo i programmi del bagaglino, quei programmi lì tipo, non lo so, la corrida, la sai l'ultima, quei programmi lì, non so se vi li ricordate, forse non sono quelli in cui c'era Pamela, però insomma io mi ricordo quelli, quelli c'era Pamela, c'era Valeria Marini, tutto ciò era di un trash allucinante e noi millennial e anche i boomer naturalmente ce lo ricordiamo bene, cioè noi vecchi purtroppo, però magari più giovani, quelli che sono nati negli anni 90, non si ricordano di tutti questi programmi estremamente trash, di quando noi eravamo piccolini, invece ce li guardavamo, ce li vedevamo bene. Ovviamente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, Pamela non è più stata sulla cresta dell'onda, non so se abbia fatto qualche reality, adesso non lo so, ad esempio Valeria Marini ha fatto diversi reality, Pamela Prati penso anche, però comunque si sa che questi personaggi degli anni 90, dei primi anni 2000, fanno un po' fatica a rimanere appunto a galla, sia per la loro fama, che rimane invariata la loro fama, nel senso tutti sanno chi è Valeria Marini, tutti sanno chi è Pamela Prati, sono nomi iconici, però magari a livello economico e lavorativo, chiaramente hanno lasciato lo spazio a persone più giovani, persone di oggi insomma, no? E quindi a volte, per fare gossip, per fare hype, per farsi, poi al fine di farsi invitare nelle trasmissioni televisive e venire pagati per fare le interviste, eccetera, si inventano delle cose oppure annunciano i propri matrimoni, le proprie gravidanze o fanno il libro, insomma, sono tutte azioni che questi personaggi fanno per andare nelle trasmissioni e farsi naturalmente pagare, perché poi il fine è quello. Pamela era quindi andata a farsi il giro delle trasmissioni annunciando il suo imminente matrimonio con Mark Caltagirone. Però diciamo che a lungo andare le persone hanno iniziato un po' a dubitare, perché questo Mark Caltagirone nessuno l'aveva mai visto, lei ne parlava forse in modo un pochino vago e non si capiva tanto bene la situazione e di conseguenza hanno iniziato ad esserci dei dubbi, finché, cioè per farvela proprio breve, perché faccio un riassunto brevissimo perché poi adesso ci interessa sapere quello che è successo negli ultimi giorni, fino a che è venuto fuori, insomma, che Mark Caltagirone non esisteva proprio. E nel momento in cui è stata scoperta l'inesistenza di Mark Caltagirone, è scoppiata una sorta di guerra tra Pamela Prati e le sue agenti, Iliana, Michelazzo e Pamela Perricciolo, che Pamela avrebbe accusato di averla truffata con una truffa amorosa. Noi tutti ormai sappiamo che cos'è una truffa amorosa, ad esempio ne abbiamo parlato nel caso del truffatore di Tinder, avevo fatto anche una puntata di Diva Podcast sul truffatore di Tinder, che era, insomma, un soggetto sicuramente narcisista e psicopatico che ingannava le donne per estorcere i loro soldi. C'è anche stato il caso, di cui non abbiamo parlato nel podcast, però è un caso piuttosto famoso, di un pallavolista, mi sembra, che è stato ingannato da una signora che si è finta una supermodella e via chat si è creato questo rapporto, questa relazione virtuale che poi non esisteva, proprio perché non esisteva la modella. In realtà c'era dietro una truffa sempre per estorcere denari con malattie, situazioni di questo tipo, per cui appunto si venivano chiesti dei soldi alla vittima. Sono truffe diffuse che vengono messe in atto proprio di una cosa del genere. Pamela aveva accusato le sue due agenti, che all'epoca dei fatti avevano questa agenzia di VIP come tante, insomma, agenzie di cui faceva parte Pamela e quindi ovviamente si occupavano anche di inviare i personaggi alle trasmissioni, creare magari anche dei gossip finti, insomma, perché poi le agenzie fanno questo e voi non credete che quasi tutti i gossip che vedete sui giornali o che spesso sono finti, sono inventati, non sono cose del tutto reali. Sul web no, sul web è diverso, sul web è diverso perché con i creator, gli influencer è diverso, perché mostrando noi sempre la nostra vita è ovvio che se stiamo con qualcuno la cosa è continuativa, mentre invece tanti di questi gossip, se ci fate caso, sono poi... non continui, cioè esce la notizia, è chiuso, diciamo che le agenzie si occupano anche di creare queste situazioni di gossip totalmente fake o mezze fake o comunque, insomma, così. A quel punto, appunto, Pamela inizia ad accusare le due agenti e tutti e tre, soprattutto Eliana, perché Pamela era rimasta un po' nell'ombra, Pamela per Ricciolo, l'altra Pamela, era rimasta, se non era un po' nell'ombra, aveva fatto poche apparizioni televisive, mentre Eliana invece si è mostrata parecchio nelle trasmissioni tv per difendersi e per andare contro Pamela. ne è uscita una roba di mesi e mesi in cui le tre si sono scontrate tra di loro a botta di trasmissioni tv, pagate profumatamente dalle trasmissioni tv e questo ha portato le persone a farsi varie opinioni. Pamela accusava le altre due di averla proprio truffata, di averla truffata in chat, parlando attraverso di lei su WhatsApp e fingendosi Mark Caltagirone per, appunto, non si sa bene a che pro, perché non credo che Pamela sia stata sfruttata da un punto di vista economico, quindi già lì forse ce n'è a capire che qualcosa non andava, ma è stata truffata sentimentalmente, non si sapeva bene per quale ragione. Di conseguenza, di conseguenza, la cosa è andata avanti fino ad arrivare in tribunale. Io, sinceramente, e qua ammetto il mio errore, avevo pensato davvero ad una truffa nei confronti di Pamela Prati, da parte di Pamela, l'altra per Ricciolo ed Eliana. Poi io, Eliana, l'ho conosciuta dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo in Puglia, perché siamo state ospiti alla stessa trasmissione, che ero stata ospita a questa trasmissione, e c'era anche Eliana, e ci siamo conosciute dietro le quinte, lei mi aveva infatti confidato che non era vero quello che era stato detto, non era vero che loro hanno truffato Pamela, era tutta una cosa comunque costruita inizialmente, adesso non mi ricordo bene quello che mi aveva detto dal vivo, però, insomma, si era professata innocente, ovviamente, Eliana, e quindi, avendola conosciuta di persona, mi sono fatta delle domande, ma mi era sembrata comunque abbastanza tranquilla, cioè, quindi, però vabbè, ero rimasta con i miei dubbi. Prima ancora di conoscere Eliana, appunto, avevo fatto un video in cui avevo espresso l'idea che Pamela, per Ricciolo, fosse una bella manipolatrice macchiavellica, e che si fosse divertita a creare tutti questi tranelli con una mente geniale e psicopatica. Insomma, io mi ero immaginata questo, dando per buone le accuse di Pamela Prati, perché poi io ho anche pensato, Pamela Prati, personaggio comunque conosciuto, personaggio iconico, non penso che si metta ad accusare delle persone per poi magari finire ad essere nel torto, cioè, perché comunque, alla fine, cioè, questo è anche un po' un errore che si fa, però magari quello di credere a chi conosciamo rispetto a chi non conosciamo, quindi la parola di una Pamela Prati rispetto alla parola di una Pamela Perricciolo che, boh, ma chi è un po' strana, un po' così, la gente, quindi gli agenti sanno sempre un po' di, non di vicino, però un po' di raggiratori e manipolatori e quindi viene spontaneo dare più credito alle parole di Pamela Prati, almeno per me è stato più spontaneo e mi sono immaginata questo tipo di situazione in cui realmente lei potesse essere stata in qualche modo manipolata, insomma, e ingannata. Adesso, però, sono uscite delle fantastiche notizie riguardo al processo, perché poi c'è stato il processo e andiamo a vedere, fatto quotidiano, questa è la notizia di Pasqua, Pamela Prati non fu truffata, GIP archivia la denuncia per il caso Mark Caltagirone. Pamela Prati non fu truffata. La denuncia presentata dalla Showgirl nel 2019 contro le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, per la nota vicenda del finto matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone, è stata definitivamente archiviata. Come riporta Fanpage, secondo la GIP Valeria Tommasini, Prati, appunto, non fu indotta a credere all'esistenza del corteggiatore, in realtà mai esistito, ma anzi, secondo la GIP, si trattò di un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi autopromozionali. Un caso, quindi, si legge, che avrebbe garantito un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio di intrattenimento. La vicenda inizia cinque anni fa, nel 2019. Minchia, sono già passati cinque anni, raga. Porca troia. Aiuto, vabbè. Quando la Prati... Cinque anni, ma scusate. Vi rendete conto che sono passati cinque anni dal caso Mark Caltagirone? No, cioè... Chiedo, chiedo. Vabbè, due anni dopo, nell'aprile 2021, il PM chiede l'archiviazione del procedimento. I legali di Pramera Prati, però, si oppongono e chiedono l'istituzione... Chissà se si è affidata ad M-Team. Scusate, la battuta doveva esserci. Si oppongono e chiedono l'istituzione di un procedimento che definisca le eventuali colpe dei soggetti coinvolti. Ora, la GIP ha messo fine al caso. Come hanno commentato le due protagoniste, le altre due protagoniste della vicenda, ovvero Eliana e l'altra Pamela. Allora, andiamo a vedere. Partiamo da Eliana, partiamo da Eliana che dice di aver lasciato l'Italia. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto Eliana Michelazzo previa dello scandalo immerso dalla finta relazione tra Pamela Prati e il fittizio Marche Caltagirone. Sin da quando è emersa la falsità di questa storia, Pamela si è sempre dichiarata all'oscuro di tutto e ha accusato la sua ex manager di averla raggirata, inducendola a credere che Caltagirone esistesse davvero e ad intraprendere con lui una relazione amorosa poi rivelatasi inesistente. Da quel momento i rapporti tra la showgirl e la Michelazzo si sono interrotti bruscamente e la Prati ha deciso di denunciarla e coerelarla aprendo così un procedimento penale. Tale procedimento si è chiuso però nelle scorse settimane con l'archiviazione per la gioia di Eliana la quale intervistata da casa SDL con Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia ha raccontato di essere molto felice e di aver deciso di lasciare definitivamente l'Italia. Allora Eliana dice sto festeggiando dopo la fine del processo ora sono a Miami poi ritornerò a Ibiza ho fatto la scelta di spostarmi dall'Italia perché la pesantezza di tutta questa storia mi ha dato veramente fastidio però oggi sono sicuramente più serena perché nessuno mi ha dato grandi colpe perché di colpe non ne ho per ora ho deciso di lasciare l'Italia definitivamente non mi sento più di stare lì mi ha fatto male questa situazione ci sono state state accuse pesanti senza fondamenta perché la vera vittima sono stata io a Ibiza affitto le case mi dispiace perché nel mio lavoro ero brava anche se il lavoro di manager oggi è morto non esiste più l'avvocato di Pamela disse al grande fratello che loro avrebbero avuto la vittoria invece sono super felice perché il procedimento è stato archiviato quindi non potrei essere più serena cantare vittoria non è mai sentito non è mai servito la Michelazzo ha poi rivelato di non aver mai più sentito Pamela Prati in tutto questo tempo nonostante lei si sia sempre dichiarata aperta al dialogo io e Pamela non ci siamo mai sentite ricordo solo che mi sbloccò da Instagram non so il motivo forse voleva vedermi ma poi non ci siamo sentite dico che nella vita bisogna sempre dare il beneficio del dubbio e confrontarsi perché così vuol dire che sei pulito se non ti guardi in faccia e non ti parli vuol dire che un po' la coscienza sporca ce l'hai ne ho sentite talmente tante che adesso non mi prenderei neanche un caffè con lei e ci manca solo Eliana fai benissimo un saluto ad Eliana comunque si vedrà questo video dato che ci siamo conosciute e mi è stata davvero molto simpatica andiamo invece a vedere come Pamela Perricciolo commenta invece la questione e qui lo leggiamo da bici allora Pamela Perricciolo commenta la decisione del GIP andiamo a vedere dopo anni di silenzio Perricciolo via Instagram ha così reagito alla decisione della GIP chi mi segue da anni sa che non ho mai pubblicato nulla su questa triste storia oggi pubblico la parola fine augurandomi ma so che è impossibile che la gente la smetta di giudicare senza sapere i fatti perché si creano gogne mediatiche sul nulla non festeggerò perché comunque non c'è da festeggiare però era giusto postare quello che un giudice vero ha disposto e non presentatori televisivi adesso però chi ha parlato senza sapere si prendesse le sue responsabilità perché non mi fermo mica qui grazie avvocato adesso però i danni da chiunque abbia parlato scritto tanto per quindi questi sono quindi insomma a quanto pare da quello che ho capito la vicenda di Mark Caltagirone è stata studiata a tavolino almeno all'inizio per far diciamo andare la Prati insomma far invitare la Prati alle trasmissioni televisive quindi le tre le tre si erano messe a tavolino per creare questa finta relazione con un uomo che non esisteva in realtà cosa secondo me veramente comunque non buona come decisione non credo con tutto il rispetto per le due agenti che questa sia stata una mossa particolarmente intelligente perché piuttosto se devi creare un gossip finto crealo con una persona esistente adesso ci sarà stato un povero Cristo un povero Cristo disponibile a farsi il gossip con Pamela Prati e poi magari lasciarsi dopo insomma no cioè eppure hanno inventato un uomo che non esisteva e secondo me non aveva senso questa cosa non capisco il perché sia 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 stata inventata questa questa roba qui e poi quando le cose si sono messe male perché giustamente poi è stato capito è stato scoperto che quest'uomo non esisteva invece di starsene tutte in silenzio hanno iniziato a farsi la guerra tra loro perché Pamela Prati ha accusato le altre due di averla manipolata dunque adesso so che tutti vorrete sapere la mia analisi psicologica su questa su questa vicenda in realtà è una vicenda molto triste molto trash molto poco professionale secondo me anche soprattutto da parte delle due agenti ripeto che hanno lavorato in modo comunque sporco perché cioè non è non è giusto per il pubblico non è giusto per la televisione non è giusto per i social creare qualcosa di totalmente finto va bene lo spettacolo però lo spettacolo messo in atto con dei personaggi fittizi con dei personaggi finti secondo me ripeto non è da professionisti e io credo che veramente bastava mettersi d'accordo con un altro personaggio creare un gossip oppure creare qualche altra notizia non inerente a cose sentimentali se l'obiettivo era di rilanciare Pamela e farla guadagnare attraverso le trasmissioni quindi trovo di una bassezza unica sinceramente fare queste azioni solo per un guadagno ma senza che ci sia della sostanza del vero quantomeno una cosa recitata decentemente se vogliamo fare lo spettacolo facciamolo ma almeno recitiamola in modo decente con delle persone vere dei personaggi veri insomma Pamela diciamo che Pamela Prati in tutto il suo percorso che è stato in questa vicenda ha dimostrato di essere una persona bugiarda una persona manipolatrice sempre tenendo conto che quello espresso dal giudice sia reale cioè che quindi non sia stata truffata fosse d'accordo e tutto quindi io mi baso su quello che è stato detto dal giudice io so che voi volete sapere se Pamela Prati è narcisista e io vi dico che per come la vedo io la vedo molto di più cioè la vedo molto di più istrionica cioè una persona istrionica una persona che ha fatto delle attenzioni del pubblico la sua la sua vita una persona fondamentalmente comunque non felice non felice cioè almeno a me sembra da fuori poi io mi auguro per lei che lo sia e che o quantomeno che dopo questa storia abbia trovato un suo equilibrio una sua serenità anche perché è una bellissima donna ancora oggi però io credo che sia una persona che sicuramente non è stata bene non è stata bene in quel periodo non è stata bene per accettare qualcosa del genere e nel modo in cui si è comportata poi sia stato veramente molto manipolatorio quindi io ci vedo un istrionismo unito anche ad un narcisismo sicuramente sempre tenendo conto che lei abbia mentito e lei si sia posta in questo modo quindi sicuramente lei è una persona di questo tipo e di sicuro non una persona affidabile per anche per mettere in atto certe situazioni lavorative perché poi se tu fai una cazzata accordi con delle persone per fare anche una cosa finta nel momento che la cosa crolla non vai contro le altre due quindi o c'è una parte di verità di Pamela che noi non sappiamo oppure se è vero quello che ha deciso il giudice la cosa è andata esattamente così e Pamela comunque la vedo totalmente istrionica proprio nel suo modo di porsi nella sua ricerca di attenzioni anche nel suo ruolo dello spettacolo che ha avuto perché comunque molti soggetti con tratti istrionici li troviamo nel mondo dello spettacolo è proprio quel tipo di spettacolo in cui viene messo in mostra il corpo la bellezza la provocazione la sessualità cioè le donne portate a questo ruolo come anche la Valeria Marini la trovo una persona con dei grandi tratti istrionici anche se la vedo sicuramente molto più onesta molto più sincera e non assolutamente manipolatrice per il poco che ho visto l'ho sentito mentre invece Pamela Prati la vedo molto più manipolatrice quindi con tratti sicuramente più narcisistici più portata anche all'inganno alla menzogna quindi ecco diciamo questa è la mia analisi psicologica che ho potuto evincere dal comportamento messo in atto da Pamela quindi da questa ricerca di attenzione assidua che l'ha portata poi anche a fare delle figure proprio da istrionica tipo quando se n'è andata se n'è andata via ha fatto la sceneggia le persone istrioni che fanno queste sceneggiate sono attori fondamentalmente e lei Pamela ha un modo molto di recitare io pensavo proprio pensando alla componente istrionica di Pamela anche per questo pensavo che fosse stata raggirata perché in realtà gli istrionici sono molto raggirabili sono molto facili da persuadere da fargli credere cose che non esistono sono molto creduloni sono molto molto diversi dai narcisisti gli istrionici sono molto molto i narcisisti sono totalmente diffidenti l'istrionico no l'istrionico è uno che si affeziona subito che crede a tutto sono persone molto manipolabili gli istrionici anche per questo pensavo poveraccia poverina sarà stata manipolata però evidentemente la Pamela non ce l'ha raccontata giusta e probabilmente ha questo tratto di personalità molto molto più narcisistico rispetto ad altri istrionici più innocui ecco quindi questa è un po' la mia idea fatemi sapere se concordate con questa visione questa idea che ho di di lei e finalmente comunque abbiamo scoperto la verità sul caso Mark Caltagirone che è stato il caso secondo me più trash della storia della tv italiana che ci ha tenuto col fiato sospeso per mesi e mesi e fatemi sapere cosa ne pensate con questo noi ci vediamo alla prossima puntata di Diva Podcast di Diva Podcast di Diva Podcast di Diva Podcast